Bruno Gambarotta, è stato un grande piacere averlo qui con noi, abbiamo appena finito un incontro con lui al Centro di Cultura di Valenza nell'ambito del Festival PEM. Abbiamo raccontato un po' di episodi della sua vita che è ricca, di cose belle, di situazioni, gli aneddoti, i ricordi sono tanti. Ne abbiamo parlato partendo da questo libro che io consiglio a tutti, si chiama Fuori Programma. Sono le memorie di Bruno nei suoi decenni trascorsi alla RAI ma anche prima. Da cosa nasce questo libro, l'idea di questo libro? Nasce da una serie di racconti verbali perché alla fine ogni tanto qualche amico, soprattutto la famiglia dell'editore Manni, mi chiedevano di raccontare delle storie, erano molto curiosi. Alla fine Agnese, che è questa carissima amica, che è il titolare della casa editrice, che è una ragazza giovane tra l'altro, mi dice ma perché non li scrivi, perché non li facciamo un libro? Dico ma se me lo chiedi lo faccio. Io non sono amante della memorialistica, però alla fine ho ceduto e sono contento. Sono contento che tra l'altro i racconti sperimentati prima verbalmente funzionano di più perché li hai misurati sulle reazioni del pubblico. Ho visto anche Piero Chiara che ho frequentato a Varese, Camilleri, Camilleri è un narratore fantastico. Anche Adriano Celentano lo è, ma lo è solo in privato, peccato. Io gli ho detto facciamo una trasmissione dove tu racconti le tue storie, le pause giuste, niente a fare. E quindi alla fine l'ho scritto con molta piacere, devo dire poi sta andando bene, sono un po' bloccato perché non so cosa scrivere dopo. Tu hai fatto anche dei bellissimi romanzi gialli molto ironici, ci sarebbero mille domande da farti, però una che è quasi inevitabile, l'hai citato adesso, Adriano Celentano, che un po' ti ha cambiato la vita. Com'è stato lavorare con lui? Ma è stato strano perché lui era, dunque intanto è nato un'amicizia di pelle, ci dividono sei mesi d'età, però siamo diversissimi. Lui ha bisogno di mettere delle barriere fra le persone perché ha bisogno di sicurezza, non so come dire. Lui dal punto di vista suo non ha, però è stato diffidente, io gli ho dato infinite prove di devozione, io credo molto nell'amicizia, poi non ho mai tradito nessuno. Ho stato dei momenti per me molto belli, una sera in Rivalmara, Bordighera, mentre gli autori discutevano, litigavano fra di loro, con Claudio Mori, passeggiamo sulla spiaggia, lui mi mette la mano sulla spalla e mi fa guarda quelli, con quelli io litigherò con tutti prima o dopo, ma con te mai. E poi una volta sono entrato in camerino per parlargli di una cosa di lavoro e lui era lì con Claudio Mori, stavano parlando di affari di famiglia, di qualcosa che li riguardava. Io mi sono subito detto scusate, scusate, no, 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 vieni, vieni, tanto tu sei della nostra. A me questa cosa mi ha commosso, io non lo tradirei mai, perché è così, mi sembrava da un certo punto una persona ingenua, una persona, come dire, piena di timori inesistenti, non so, una volta entrando al De Re Vittorio, lui arriva con la macchina guidata da un autista, bravo, il teatro Geroma, arriva lì mentre apre la porta per entrare, proprio vicino all'ingresso, c'era la folla, c'era i fans, tutto quanto, uno riesce a rompere un cordone e si butta proprio contro di lui, si butta, Adriano, Adriano, fammi far qualcosa, fammi far qualcosa. E io ero lì che lo aspettavo, mi si gira verso me, dai, dai, fallo entrare, fagli fare qualcosa. E io sai, gli ho detto, vabbè, l'ho fatto così, gli ho fatto fare un po' il figurante speciale. Però dopo gli ho detto, quando siamo stati in albergo, ma ti rendi conto? Gli ho detto che cosa mi rischio. E se questo si faceva male, non aveva contratti, non aveva niente di niente, pensa che... Però, e mi ha detto, eh, vabbè, ma perché l'hai fatto? Mi ha detto, ma perché bisogno c'era? E si mi faceva fare la fine di John Lennon, capito? Ah, quello suo timore. Quello suo timore. Dico, ma come è possibile? Eppure lui aveva questa sua... Ah, perché è ancora vivo, per l'amore di cielo. Ma è questa cosa che a me colpisce molto, questa sua... Questo all'atto indifeso, se vogliamo. Infatti lui ha il clan, ha tutto il gruppo di amici, tutta la sua... Ebbè, è così. Ha sempre il timore che tu lo stia prendendo in giro, stia cercando di... Con me no, con me ormai era completamente scoperto, quindi per me è stata una bella... Poi non ci siamo quasi più visti, mi ha fatto fare svalutazione, facevo il maggiordomo. Poi ogni tanto, quando ho compiuto 80 anni e la stampa mi ha detto intervistalo. Io ho provato a cercarlo, non si faceva trovare. Poi il giorno dopo mi ha telefonato, perché mi ha letto un'intervista e l'articolo mi è piaciuto. Ma scusami, ma non potevi lasciarti e farti intervistare. Non era meglio. Vabbè, vabbè, ecco, lui è così. Adesso lui ha 87 anni come me, quindi non è un bambino. Grazie mille. Bruno Gambarotta, in questo libro troverete storie come queste e tante altre. Grazie ancora. Grazie a tutti.